Caltanissetta I poliziotti della sezione volanti hanno segnalato alla Procura della Repubblica un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo. Nella serata di ieri un equipaggio della Polizia di Stato nel corso di un servizio nel territorio ha proceduto al controllo di un'autovettura con a bordo due persone sospette. Il veicolo transitava per il centro storico cittadino in una zona frequentata da giovani che stazionavano nelle vicinanze di diversi locali. Le due persone a bordo del mezzo sono state sottoposte a perquisizione personale. In un caso gli agenti hanno trovato e sequestrato 58 grammi di hashish nascosti negli slip. La perquisizione è stata estesa anche al domicilio dell'uomo. Qui i poliziotti hanno sequestrato altri 3 grammi di hashish e una pistola detenuta illegalmente. Proseguono intanto i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine in diverse zone della città, anche in quelle meno frequentate e non solo nelle ore notturne. Verrà interrotta la distribuzione idrica il 15 e 16 settembre nei comuni di Resuttano, Santa Caterina, Villarmosa, Marianopoli e nelle zone di Xirbi e Borgo Petilia per il comune di Caltanissetta. Questi gli aggiornamenti di Caltacqua a seguito della nota di Siciliacque in cui veniva comunicata l'interruzione alle ore 8 del 15 settembre dell'esercizio dell'acquedotto Madoni Est per permettere l'esecuzione di due interventi di manutenzione in Contrada e Rosa a Resuttano e Contrada Santuzza-Laspina a Caltanissetta. Nella nota si precisa inoltre che i lavori di riparazione avranno una durata di circa 18 ore e si prevede infine il ripristino del servizio di fornitura, secondo Siciliacque, il 16 settembre nel comune di Resuttano entro le ore 12, comune di Santa Caterina, Villarmosa e di Caltanissetta, quindi Borgo Petile e Xirbi entro le ore 14, comune di Marianopoli, Consorzio CB4 e Santa Caterina, Villarmosa entro le ore 16. Danneggiamenti di auto in serie subiti da due cani cattinesi nei giorni scorsi, i quali hanno segnalato quanto loro accaduto alla polizia. Sembrano degli attimirati quelli subiti da una giovane di 33 anni che lavora come impiegata in un call center. La donna ha notato che qualcuno aveva tracciato dei graffi sugli sportelli della sua Fiat 500L a distanza di pochi giorni e nella settimana successiva i vandali si erano accaniti sul resto della vettura, causando altri danni all'intera carrozzeria. Vicenda simile a quella capitata a un quarantenne cani cattinese che si è accorto dei numerosi graffi praticati sulla carrozzeria della sua Hyundai Tucson dopo aver fatto lavare la propria auto. Ed è stato proprio il lavaggista a fare notare i danni al cliente. Anche in questo caso i vandali hanno preso di mira l'intera carrozzeria, tetto, parafanghi, paraurti, portellone, portiere e cofano. L'uomo parcheggia solitamente la sua auto in piazza Macaluso, ma si sposta parecchio per lavoro anche nel resto della provincia grigentina, nel Nisseno e nell'Ennese. E quindi c'è da capire se gli episodi siano avvenuti in uno o più luoghi. Prosegue l'attività di controllo delle guardie del WWF nel territorio di tutta la provincia nissena. I loro interventi negli ultimi giorni hanno consentito di individuare due incendi in orario notturno nelle campagne tra Marianopoli e Santa Caterina e un altro nei pressi della vecchia stazione di Butera. I due incendi sono stati prontamente segnalati ai vigili del fuoco e alla guardia forestale. Le guardie del WWF aumenteranno la sorveglianza in tutto il territorio provinciale, vista l'imminente apertura della stagione della caccia, prevista per domenica 18 settembre, in modo da scongiurare eventuali episodi di bracconaggio. A questo proposito il WWF invita i cittadini a segnalare casi di caccia di frodo o qualsiasi altra attività illecita ai danni degli animali e dell'ambiente, maltrattamenti e malgoverno di animali, uso di trappole, tagliole o reti, casi di detenzione o allevamento di specie protette, sbancamenti, abusi edilizi, scarichi inquinanti nei corsi d'acqua e tagli abusivi di alberi. Va ricordato che il lavoro del WWF si basa unicamente sul volontariato. L'associazione infatti non riceve alcun compenso per questa attività di vigilanza e si basa unicamente sulle donazioni dei privati e sullo spirito di servizio delle proprie guardie volontarie. Pulizia degli alvei dei torrenti e manutenzione dei loro argini per scongiurare eventuali sdraripamenti in aree rurali e urbane in caso di significativi volumi di acqua a seguito di importanti precipitazioni piovose, pulizia di tommini, caditoie e cunette lungo le strade cittadine, sensibilizzazione nei confronti dei proprietari di fondi agricoli, soprattutto di quelli insistenti in prossimità di zone urbane e di percorsi stradali perché vengano eseguite tutte quelle attività di prevenzione per evitare allagamenti e fenomeni franosi che possono compromettere la sicurezza delle persone e la regolare circolazione di automezzi e ancora prevenzione degli incendi boschivi che rendono più fragile la consistenza del territorio e di conseguenza aumenta il rischio di esposizione a fenomeni franosi e alluvionali. Questi provvedimenti necessari da attuare che vengono ribaditi dal prefetto di Caltanissetta nella missiva indirizzata ai sindaci della provincia. Il prefetto Chiararmeni infatti ha inviato delle raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni di frane e alluvione durante la stagione autunnale 2022 richiamando l'attenzione dei primi cittadini e del commissario straordinario del libero consorzio comunale di Caltanissetta preannunciando anche l'inizione di una riunione per un esame congiunto della situazione in atto e delle eventuali criticità esistenti, si legge nella nota della prefettura nonché delle iniziative intraprese e o buone pratiche che è intendimento attuare con tempestività. Si fa riferimento al cambiamento climatico ai sempre più frequenti fenomeni atmosferici avversi di particolare intensità. È stato rivolto dunque a tutte le amministrazioni locali l'invito a porre in essere, si legge accanto agli interventi strutturali che tuttavia richiedono tempi di realizzazione lunghi, le attività primarie di prevenzione non strutturale espressamente contemplate dal Codice della Protezione Civile. E dunque si pensa alla pianificazione di protezione civile, allertamento del Servizio Nazionale, informazione alla popolazione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile. E ancora si ribadisce la necessità di recepire con immediatezza la messaggistica di allertamento, bollettini, avvisi di criticità, eccetera. Per la tempestiva attivazione, si legge ancora, delle misure di protezione civile e anche i fini della sorveglianza del territorio da parte dei presidi territoriali comunali, soprattutto consultando gli appositi siti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Non viene tralasciato nemmeno l'aspetto dell'informazione da avviare nei confronti delle comunità locali, in merito ai comportamenti prudenti in caso di eventi meteorologici avversi. Sarà il riconoscimento del debito fuori bilancio del Comune l'unico argomento in discussione nei prossimi consigli comunali del 13, 20 e 27 settembre. Argomento divenuto di estrema urgenza a seguito di una recente sentenza civile della Corte d'Appello di Caltanissetta. Le tre sedute del 13, 20 e 27 settembre sono convocate tutte per le 18 e 30. Nell'agenda dei lavori del civico consesso erano indicati altri argomenti, ma essendo stati ritenuti non della stessa urgenza del riconoscimento del debito fuori bilancio, sono stati per il momento revocati dalle prossime discussioni. Si trattava dell'approvazione dei verbali delle precedenti sedute del Consiglio Comunale, per proseguire con la mozione sulla proposta di istituzione dell'interprete della lingua dei segni per garantire anche ai sordomuti di seguire le sedute consigliari. Altro argomento in agenda era la proposta di intitolare l'aula universitaria del Consorzio Universitario a Giulio Reggeni, lo studente italiano rapito a Il Cairo, in Egitto, nel 2016, è ritrovato morto nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani con segni di tortura sul corpo. C'era poi la mozione sulla lotta alla droga e il conferimento della cittadinanza onoraria al Maggiore Gerardo Severino. Entra nel vivo la preparazione settimanale della San Cataldese che domenica alle ore 15 sarà impegnata nella prima attesa giornata del campionato di Serie D, girone I contro il Sant'Agata. Tra i verde amaranto ci sarà anche il nuovo arrivato, Matteo Brumat, un difensore di categoria superiore che ha scelto di giocare a San Cataldo. Brumat, 27 anni, friulano, nato a Farra di Sonso, vanta anche diverse presenze nella nazionale Under-18. Nel suo curriculum pure Empoli, Arezzo, Siena, Siracusa e Acireale. Per la San Cataldese è un ottimo rinforzo, in grado di fare la differenza nel reparto arretrato. A San Cataldo si respira aria di notevole ottimismo, c'è serenità e consapevolezza intorno alla squadra allenata da Matteo Vullo che già al debutto in Coppa Italia ha dimostrato notevole qualità, fermando la corazzata Catania e battendola dopo 90 minuti di grande intensità ai calci di rigore. Di scarsa rilevanza la successiva sconfitta con il Paternò dopo una partita affrontata dai verde amaranto, soprattutto come un test per provare soluzioni e schemi. Da domenica con i tre punti in palio non ci sarà più spazio per gli esperimenti. La San Cataldese è chiamata alla conquista della vittoria come auspicato nei giorni scorsi dal portiere Dolenti e per portare a termine la prima impresa della stagione avrà necessariamente bisogno del calore dei propri tifosi. Il Sant'Agata, avversario da non sottovalutare, punta principalmente alla salvezza. Sulla pagina social Sant'Agatese parla il direttore sportivo Ettore Meli. Penso che tutte le squadre giocano sempre per vincere, quindi l'obiettivo è partire partita dopo partita cercando di fare più punti possibili. Un avversario vale l'altro, non vediamo l'ora di partire perché ora il campo manca. Ma il mercato penso che chiuda il 16 o il 18 quindi non è chiuso fino all'ultimo momento. Poi in linea di massima la squadra è pronta, però come è normale che sia siamo sempre attenti ad ogni situazione che possa nascere. Si avvicina all'edizione numero 20 del rally di Caltanissette del Vallone, prevista per i prossimi 22 e 23 ottobre e che avrà una tripla validità. Sulle strade che si dipanano tra Caltanissette e Mussomeli si sfideranno infatti i piloti che gareggiano nella Coppa Italia Rally di zona e quelli del campionato siciliano per auto moderne e autostoriche, i quali animeranno il sesto historic rally di Caltanissette del Vallone. Gli organizzatori hanno lavorato parecchio per organizzare la competizione e trovare una buona collocazione nel calendario delle gare automobilistiche di categoria. Particolare l'interessamento del delegato fiduciario Agisport Sicilia Daniele VII. Da parte sua l'Automobile Club Caltanissette ha schierato le proprie forze al fianco della scuderia Caltanissette a corse del gruppo Piloti del Vallone. Le iscrizioni si apriranno venerdì 23 settembre per chiudersi mercoledì 12 ottobre. Due giorni di coinvolgente automobilismo che inizieranno a Caltanissette con le verifiche sabato 22 ottobre nel cuore della città, la partenza nel pomeriggio e la superprova speciale. Domenica 23 si prosegue con nove prove speciali, tre da percorrere altrettante volte, con arrivo nel centro di Mussomeli, altra città della provincia nissena storicamente ad alta vocazione automobilistica. Amici Trevi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre presioni per la giornata di martedì molto interessante da un punto di vista europeo, perché guardate è presente quest'area di bassa pressione sull'Europa sud-occidentale, si fa sentire sulla penisola iberica, sulla Francia occidentale, ma non riesce ad avanzare verso il Mediterraneo e l'Italia. Noi siamo in qualche modo protetti dallo scudo di quest'alta pressione di origine nord-africana ben piazzata su di noi. E quindi se guardiamo la nuvolosità attesa sull'Europa e sul nostro paese, vediamo che queste nubi non riescono ad avanzare verso il nostro paese, lo fanno a fatica, ma quando anche raggiungono le nostre regioni più occidentali, poi tendono a dissolversi in quel campo anticiclonico di cui vi parlavo prima. E quindi, come precipitazioni, nulla da segnalare, senza nuvole cosa vuoi che piova. Quindi davvero giornata da piena estate, per questo martedì prevediamo gran sole da nord a sud, magari qualche velatura, qualche nuvoletta si fa vedere sui settori più occidentali, ma senza conseguenze non le abbiamo neanche indicate. Temperature localmente oltre i 30 gradi, quindi valori diurni ancora da piena estate, però di notte al primo mattino aria decisamente più frizzantina. Per sapere a questo punto, fino a quando andremo avanti così, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizio diurno, Pasqualino, Via Xiboli, Villaggio Santa Barbara. Servizio notturno, Buonasera, Via Edmondo De Amicis.